cristo risorto è veramente risorto alleluia cari fratelli e sorelle benvenuti a questo momento di preghiera oggi celebriamo nella chiesa la festa dei santi apostoli filippo e giacomo chiediamo loro la intercessione affinché il signore ci dia la grazia di ascoltare la sua parola di alimentare la nostra anima il vangelo di oggi è tratto da gioanni capitolo 14 versetto dal 6 al 14 e poi dopo la proclamazione del vangelo vi dirò qualcosa su su questi due santi apostoli bene chiediamo al signore allora che venga a illuminare la nostra vita la nostra giornata nel nome del padre del figlio dello spirito santo amén dal vangelo secondo giovanni in quel tempo gesù rispose a tommasso io sono la via la verità e la vita nessuno viene al padre se non per mezzo di me se avete conosciuto me conoscerete anche il padre mio fin da da ora lo conoscete e lo avete veduto vi disse filippo signore mostraci il padre e ci basta il rispose gesù da tanto tempo sono con voi e tu non mi hai conosciuto filippo chi ha visto me ha visto il padre come puoi tu dire mostraci il padre non credi che io sono nel padre e il padre è in me le parole che io vi dico non le dico da me stesso ma il padre che rimane in me compie le sue opere credete a me io sono nel padre e il padre è in me se non altro credetelo per le opere stesse in verità in verità io vi dico chi crede in me anche egli compirà le opere che io compio e ne compirà di più grande di queste perché io vado al padre e qualunque cosa chiederete nel mio nome la farò perché il padre sia glorificato nel figlio se mi chiederete qualche cosa nel mio nome io la farò parola del signore lo da te o cristo bene cari fratelli e sorelle vi dico due cose su filippo e giacomo santi discepolo di giovanni il battista tutte e due filippo è un pescatore di bezzaida ed è uno dei primi a seguire gesù e al quinto posto nell'elenco degli apostoli l'evangelista giovanni lo presenta come un uomo generoso e molto impegnato a far conoscere gesù agli altri per il suo nome greco a lui si rivolgono i greci giunti in palestina per conoscere cristo secondo la tradizione evangelizza gli sciti e i parti concludendo la sua vita con il martirio se voi andate a vedere san pietro la basilica di san pietro o la basilica di san giovanni il laterano sempre presentano filippo l'apostolo con una croce in mano per rappresentare che per dire che ha sofferto il martirio e non si sa bene secondo la tradizione è stato crucifisso giacomo dall'altra parte è figlio di alfeo ed è detto il minore per distinguerlo da giacomo fratello di giovanni i figli di zevedeo è chiamato anche il giusto insieme a filippo e discepolo del battista interessante questa cosa no che erano discepoli del battista e hanno risposto hanno risposto alla alla proposta di giovanni il battista ecco l'agnello di dio questi due hanno seguito questo invito ecco l'agnello di dio ecco interessante questo allora a gerusalemme nel 50 nell'anno 50 presiede il primo concilio della chiesa il concilio di gerusalemme dove c'era pietro paolo eccetera dimostra grande equilibrio e comprensione verso i cristiani che provengono dal paganesimo riguardo alla circoncisione che era anche un tema del concilio di gerusalemme ritiene che le antiche prescrizioni non dovevano essere imposte a coloro che si stanno accostando a cristo diviene capo della chiesa di gerusalemme alla morte di giacomo il maggiore che muore sgozzato no di lui abbiamo una lettera di giacomo il minore nel nuovo testamento in cui rivadisce che la fede è sterile senza opere di carità e di giustizia mi vuoi far vedere la fede mostra me le opere questa è la sentenza che abbiamo sentito tante volte lo storico ebreo giuseppe flavio riferisce che morì per lapidazione nell'anno 62 bene riguardo al vangelo che abbiamo proclamato dove appare filippo con questa domanda non è una domanda al caso è sempre noi ci dobbiamo identificare con questi apostoli no con loro perché siamo noi perché in fondo questa domanda che fa filippo al signore è la domanda che c'ha ogni uomo ogni uomo per natura per natura senza parlare di regione per natura l'uomo ha un desiderio un desiderio profondo di dio così vediamo in tutte le civiltà come ogni civiltà ha cercato la risposta alla propria esistenza nel un dio creato da loro nella loro religione eccetera eccetera però possiamo vedere gli egiziani i greci i romani lo sastecas lo sincas eccetera 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 così tutte le civiltà per dare un senso alla loro esistenza la tutta ai fenomeni eccetera cercavano un dio e così filippo risponde filippo risponde mostraci il padre signore mostraci il padre e ci basta pensate una frase che può sembrare scandalosa invece esprime tutto ciò che vuole l'uomo che desidera l'uomo ripeto vedere il volto di dio e allora cristo ha detto nel vangelo io sono la via la verità e la vita via che conduce al padre che si rivela nella verità si rivela e non condanna una verità che non ci condanna se no se non ci libera ci abbre alla possibilità della vita via verità e vita vita eterna vita eterna che cosa è contemplare il volto di dio questa è la nostra pace questa è la nostra fede allora conoscere vuol dire amare lo sapete no se avete conosciuto me conoscerete anche il padre mio dirà la lettera agli ebrei cristo è la impronta della sostanza divina cioè ci ha rivelato ci ha mostrato ci ha fatto vedere come e quale l'amore di dio così dio com'è come dice san giovanni dio è amore e questo l'ha rivelato cristo ci ha rivelato l'amore del padre ogni giorno attraverso la proclamazione della parola attraverso la celebrazione dei sacramenti ci rivela la chiesa il volto di cristo ci fa avvicinare all'amore del padre il problema siamo noi il problema siamo noi senz'altro che possiamo stare tanto tempo restare tanto tempo in chiesa così tanto tempo o tanti memoriali tante esperienze di fede eccetera possiamo dire tante cose e non conosce cristo può capitare questo a noi che non abbiamo conosciuto cristo anche restando tanto tempo in chiesa nella chiesa allora chiediamo al signore il dono della fede la fede degli apostoli la fede che hanno professato loro e per la quale hanno versato il sangue per la quale hanno evangelizzato hanno testimoniato filippo e giacomo ci dia il signore anche la grazia di testimoniare nel nostro piccolo nella nostra realtà al lavoro in famiglia mostrando il perdono mostrando la riconciliazione la carità così come dice giacomo per vedere la fede mostrame le opere allora che questa risposta di cristo venga nel nostro aiuto in questa giornata che abbiamo desiderio di vedere dio ecco si rivela cristo attraverso questo ci invita la fede credete a me io sono nel padre il padre è in me cristo e il padre sono una sola cosa così come lui vuole farsi una sola cosa con noi questo il desiderio profondo di ognuno di noi del nostro cuore avere dio nella nostra vita e grazie a che grazie a chi possiamo avere dio nella nostra vita grazie a cristo che il figlio di dio dio fatto uomo che è venuto per perdonarci e per chiamarci alla vita il signore vi benedica nel nome del padre del figlio dello spirito santo amen bene oggi lasciate qui sotto nella zona dei commenti le vostre preghiere per intercessione di san filippo e san giacomo apostoli e chiedete quello che volete il signore ha detto chi qualunque cosa chiederete nel mio nome io la farò quindi per intercessione degli apostoli oggi chiediamo delle grazie al signore e potete anche lasciarci un piace un like iscriverti al nostro canale e attivare le notifiche per non perdere nulla e poi condividere anche il link di questo video nel social nel tuo social magari nello stato di whatsapp e così ci aiuti a evangelizzare un abbraccio forte san filippo e san giacomo pregate per noi